Lo studio sulle esigenze dei cittadini che si spostano in bus è proseguito per oltre un anno e dal 3 maggio partirà la rivoluzione dei trasporti pubblici a Piacenza. Metrobus è una nuova linea che collegherà San Lazzaro a Sant'Antonio con corse che transiteranno in centro ogni 10 minuti. Le novità sono state presentate all'ex Chiesa del Carmine da Comune di Piacenza, Tempi Agenzia e Seta. I cambiamenti sono a costo zero per la città perché sono stati utilizzati finanziamenti regionali. Questo è un progetto innovativo che in realtà va ad ottimizzare dei servizi e va soprattutto ad introdurre delle cadenze di 10 minuti per delle percorrenze che ci sono rimangono ma che sono state riviste alla luce delle mutate esigenze del territorio. Ad esempio la necessità di coprire maggiormente la besurica, la necessità di andare a dare risposte alla zona dell'Università Cattolica con queste fermate che prevedono una cadenza di 10 minuti. Quindi ecco perché vengono chiamate metrobus, perché di fatto sostituiscono una metropolitana. Questo vuol dire dare una risposta anche dal punto di vista ambientale perché incentivando l'utilizzo del trasporto pubblico e offrendo un servizio più incisivo andiamo a disincentivare l'uso dell'auto. Nei prossimi tre anni arriveranno a Piacenza 60 nuovi mezzi che abbasseranno la vita dei bus da 12 a 9 anni. Saranno in parte a metano e in parte ibridi. L'altra novità riguarda i biglietti. Progressivamente tutti i mezzi del servizio urbano di Piacenza saranno dotati di dispositivi che consentiranno all'utente di poter salire a bordo senza dover acquistare preventivamente il biglietto e di pagare direttamente con la carta di credito. Chi fino ad ora saliva sulle linee 2 o 3 del trasporto pubblico o sulla navetta piazza cittadella piano caricatore da lunedì salirà alle stesse fermate sul nuovo metrobus.